allora ragazzo le cose stanno così in media ci sono circa 1.500 alieni sul pianeta la maggior parte dei quali ammanattano gente abbastanza onesta che cerca di guadagnarsi da vivere fanno i tassisti non tanti quanti di resti quasi tutti gli umani non ne hanno idea e non vogliono non è necessario che lo sappiano sono felici convinti di stare al sicuro perché tanti misteri la gente è matura l'accetteremo una persona è matura la gente è un animale ottuso pauroso e pericoloso lo sai anche tu 1.500 anni fa tutti sapevano che la terra era il centro dell'universo 500 anni fa tutti sapevano che la terra era piatta e 15 minuti fa tu sapevi che la gente era sola su questo pianeta immagina cosa saprai domani dov'è la fregatura fregatura la fregatura è che dovrai truccare qualsiasi contatto umano nessuno saprà mai che tu esisti in nessun luogo mai hai tempo fino all'alba per riflettere ehi ne vale la pena ah sì ne vale la pena se sei abbastanza forte ehi ne vale la pena ehi ne vale la pena